La Direzione Investigativa Antimafia, la Polizia di Stato di Trapani e il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri hanno dato esecuzione a ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo su richiesta della corrispondente Procura della Repubblica, DDA, con la quale sono state disposte 21 misure restrittive di cui 17 in carcere e 4 ai domiciliari nei confronti da altrettante persone ritenute appartenenti alle famiglie mafiose di Custonaci, Valderice e Trapani che fanno capo al mandamento di Cosa Nostra del capoluogo trapanese Contestualmente sono scattate numerose perquisizioni anche nei confronti di ulteriori soggetti indagati a piede libero ed è stata altresì acquisita documentazione tecnico-amministrativa e contabile presso il comune di Custonaci Tra gli arrestati figura un esponente di spicco della precedente giunta municipale custonacese mentre un ex sindaco, un ex assessore e un consigliere comunale di maggioranza in carica tutti indagati a piede libero sono stati perquisiti L'operazione congiunta denominata Scialandro, durata due anni, cui hanno lavorato la DIA di Palermo e Trapani la scuola mobile della questura di Trapani e il Nucleo Investigativo di Trapani dell'Arma dei Carabinieri ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza per reati di natura associativa di stampo mafioso o comunque per delitti connotati dall'aggravante mafiosa Nello specifico le indagini hanno portato alla luce sinergie e rapporti opachi tra esponenti della vecchia amministrazione comunale di Custonaci e le citate consorterie mafiose grazie ai quali queste ultime riuscivano ad imporre all'ente locale i nominativi dei beneficiari di contributi solidaristici per far fronte alle condizioni di disagio economico post-pandemico nonché a pilotare l'affidamento di appalti pubblici in favore di ditte colluse o a loro riconducibili anche per interposta persona una delle quali aveva proceduto all'assunzione fittizia d'un ergastolano allo scopo di consentigli di beneficiare della semilibertà